Determina 398 del 15-12-2020, la direttrice delle due ISAC di Bassano, Chiara Tracanzan, decide di assegnarsi 119.000 euro come incentivo. Determina 428 del 31-12-2020, la direttrice delle ISAC di Bassano, Chiara Tracanzan, decide di assegnare a tre funzionari delle case di riposo comunali 35.000 euro di bonus, nero su bianco, premi riservati solo a pochi intimi in una struttura tutta comunale. E gli altri dipendenti? Tutti quegli infermieri, os, medici, già ridotti all'osso, costretti a ore e straore a saltare turni di riposo perché richiamati in servizio a causa della carenza di organico, senza magari vedersi retribuite le dovute indennità? Su questo hanno battuto le tre rappresentanti CGL, Cisle e Will, nell'ultimo incontro per definire la contrattazione, soprattutto dopo che si sono sentite dire che... Il fondo dei lavoratori di cui stiamo parlando da mesi è veramente esiguo. Le risorse disponibili al riconoscimento dei lavoratori è veramente poco. Poco per i lavoratori, ma non per la cerchia ristretta che gravita attorno alla direttrice. A proposito di questo abbiamo sollecitato che tutte queste risorse vengano spalmate in modo equo pur riconoscendo la responsabilità di ciascun lavoratore. Di ciascun lavoratore, chiaro? Tutta la movimentazione del salario accessorio dei dipendenti della casa di riposo passa per questo fondo risorse decentrate. Pertanto è importante la nostra valutazione, la nostra presenza, proprio per capire se l'andamento di questo fondo è corretto o ha bisogno di eventuali modifiche o integrazioni. Il personale della casa di riposo di Bassano nel corso del 2020 e tuttora ha dato una disponibilità massima per rientri in servizio, per dare risposte esaustive e puntuali alle esigenze degli ospiti della casa di riposo di Bassano, per cercare di dare a queste persone fragili un aiuto in questi mesi bruttissimi per tutti e pertanto ancora più brutti per gli ospiti delle case di riposo che non hanno potuto vedere i loro familiari. Questo personale va proprio premiato per la costanza e per la diligenza con cui ha lavorato. Alla condizione contributiva si aggiunge lo Stato in cui versa Villa Serena, come vi avevamo già anticipato nei nostri Tg. Edificio, vogliamo sottolinearlo, di proprietà del comune di Bassano del Grappa. È una struttura che va necessariamente rivista dal punto di vista logistico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche delle assunzioni. Il Covid non ha fatto altro che dimostrare le carenze che si sono determinate nel tempo, negli anni, dalla mancanza di lungimiranza, dalla mancanza di volontà di investire in queste strutture. E non hanno dubbi su una cosa. Le strutture ISAC, come tutte le case di riposo, devono tornare ad essere al centro dell'attenzione politica e amministrativa. Insomma, da una parte la direzione delle due ISAC comunali, dall'altra amministrazione comunale di Bassano. È chiaro che soprattutto la sindaca Elena Pavan non può più tirarsi indietro o imputare colpe e responsabilità ad altri. Deve scendere in campo se tiene ai suoi concittadini più fragili. Deve scendere in campo se tiene a tutti i bassanesi che lavorano nelle case di riposo della città che si è trovata a guidare.